Buongiorno a tutti, io sono Luca Carrai e sono amministratore di Ethic Jobs. Ethic Jobs è una delle prime società in Italia a valutare ed eventualmente certificare quella che è la qualità del lavoro all'interno delle imprese. Quello che vogliamo dimostrare è che se tutti noi lavoratori siamo più felici all'interno delle aziende, le aziende saranno anche più produttive e lo vogliamo dimostrare e comunicare agli imprenditori. Ho deciso di scrivere un libro perché volevo comunicare proprio quello che è la nostra filosofia, quello che è la nostra volontà di cambiamento, infatti il nostro obiettivo è quello di lasciare il mondo del lavoro almeno un pezzettino migliore rispetto a come l'abbiamo trovato, dimostrando appunto questo binomio lavoratore felice in pesa più produttiva. Devo dire che qui al Book Camp ho trovato degli stimoli, degli spunti che mi hanno aiutato a fare quei almeno tre passetti oltre per effettivamente scrivere il libro. D'altronde quando ci mettiamo davanti al computer vediamo la montagna dal basso e la vediamo altissima. Diciamo, non siamo autori ma ce la farò davvero a scrivere questo libro? Ecco, io sono arrivato esattamente con questi dubbi, ma grazie alle competenze del team di lavoro, del team di persone che stanno dietro al libro di impresa, ho trovato le giuste domande che hanno stimolato in me le giuste risposte per andare a scrivere il libro. E poi una cosa che consiglio è proprio il taglio pratico. Il fatto, appunto non ci credevo, ma di uscire da qua dentro con buona parte del vostro libro effettivamente scritta e soprattutto registrata, perché poi vedrete che il metodo è un po' particolare, ma effettivamente funziona, quindi competenza, professionalità e poi insomma si vede che non è proprio una cosa che fanno da ieri. Straconsigliato soprattutto per tutti voi che volete scrivere un libro.